Fa discutere e non poco la possibilità di un accorpamento del reparto di pediatria di Pesaro all'ospedale di Fano. Farà puntare i piedi alle decine e decine di mamme che la mattina di sabato 26 agosto si ritroveranno per manifestare davanti al San Salvatore in piazza Lecinelli contro la chiusura seppur temporanea di pediatria, ginecologia e ostetricia. Presidio organizzato dal PD pesarese con il capogruppo Anna Maria Mattioli in prima fila a lamentare una situazione che riguarda diversi reparti che neanche nove mesi fa avevano visto una loro riapertura all'ospedale di Pesaro dopo essere stati trasferiti a Santa Croce di Fano nel lungo periodo di covid. Questa volta però i motivi sono diversi e l'accorpamento è dovuto allo spostamento di altri reparti dall'ospedale di Muraglia in vista della nuova struttura ospedaliera che vedrà i cantieri operativi da settembre 2024. Un provvedimento che nonostante sia temporaneo e forse inevitabile per la costruzione del nuovo ospedale di Muraglia genererà diversi disagi come quello di un'interruzione del primo percorso di vita del neonato tra parto e cura medica visto che il reparto nascite verrebbe comunque confermato al San Salvatore. Disagi che potrebbero provocare un accrescimento della già ben avviata mobilità passiva verso la vicina Romagna. Tanti dubbi su questo trasferimento li porta alla luce anche il consigliere Biancani che sottolinea come lo stesso Santa Croce di Fano necessiti da tempo di una riqualificazione. Pochi posti letto, spazi ridotti e nessun reparto di chirurgia che potrebbero rappresentare qualche difficoltà nel caso in cui ci dovesse essere qualche emergenza. Emergenze alle quali invece secondo Mattioli risponderebbe bene Pesaro dotata di un servizio più all'avanguardia frutto di importanti investimenti fatti in passato.